Trenitalia, con la nuova programmazione dei collegamenti su ferro, sarebbe per effettuare nuovi tagli sulla tratta Calabria Ionica. L'allarme è stato lanciato dai sindacati, in particolare Tonino Russo e Annibale Fiorenza, rispettivamente il segretario generale di Cisle Calabria e di Fit Cisle, denunciano che a partire dal prossimo 9 giugno verranno sorpresse le uniche due coppie di tren intercity che garantivano collegamenti da questa parte della Calabria al resto del paese. Eppure l'area Ionica da tempo aspetta il potenziamento dei collegamenti, ma a quanto pare, nonostante gli annunci, non solo questo potenziamento al momento non ci sarà, ma addirittura si cancellano i treni esistenti. C'è la necessità di garantire un servizio realmente efficiente per i pendolari, è impensabile impiegare oltre tre ore per percorrere appena 150 km, tra l'altro i treni verrebbero cancellati proprio nel periodo estivo. La Cisle Calabria definisce inaccettabile la decisione di Trenitalia e chiede che la questione dei trasporti e delle infrastrutture calabresi e della fascia ionica in particolare ritorni al centro delle priorità della strategia politica nazionale. Per il sindacato, il sistema dei trasporti e delle infrastrutture rappresenta l'asse portante dell'integrazione e della competitività territoriale, quali condizioni essenziali per attrarre investimenti e generare una concreta prospettiva di sviluppo e di crescita socio-economica dei territori.